ciao a tutti benvenuti o bentornati in questo nuovo video innanzitutto volevo ringraziarvi per tutte queste visualizzazioni continuano ad arrivare ogni giorno sono sempre di più e lo devo solo a voi ho notato semplicemente nei dati che tante persone non capisco il perché non si iscrivono nel canale forse perché troppo di nicchia ma fa niente a noi noi andiamo avanti lo stesso penso che l'argomento possa realmente interessare a tutti è un argomento che mi sta a cuore che sto cercando di reperire quante più informazioni rispetto ad icos in luma ho scritto addirittura anche al servizio clienti icos aggiungo non solo io e personalmente non è stato per nulla esaustivo volevo appunto informarvi che se non porto video concreti rispetto le nuovi i nuovi stick o piuttosto che rispetto alla nuova icos in luma è perché di informazioni realmente se ne riescono a reperire ben poche e fare dei video per andare a prendere iscrizioni o visualizzazioni personalmente non me ne vogliate ma io non ne faccio quello che vado a portare sul canale saranno cose comunque concrete con delle risposte e soprattutto le risposte devono essere scritte che cosa sto pensando di fare personalmente ai cos è un mondo che finché non esce un prodotto nuovo capiamo che di contenuti ce ne sono veramente pochi da portare quindi lampo di genio dico dato che mi state chiedendo e mi state dando realmente molta felicità rispondendo sotto nei commenti nei video e mi chiedete in tanti di questa glò così così oggi ho detto perché non andare a fare una comparativa tra la glò hyper plus e lycos 3 2 io mi sono già portato avanti sono andato ad acquistare oggi ben tre pacchetti qui abbiamo il classic tabacco qui abbiamo il terracotta e il golden tabacco premetto che io la glò lo solo provata e non l'ho mai utilizzata quindi è stata una prova culo passatemi il termine perché l'aveva un amico e quindi ho chiesto di farmela provare ma non ho mai fatto un utilizzo vero e proprio quindi in virtù di questo mi è arrivato un piccolo sconto per l'acquisto della glò e ho detto perché non portarlo sul canale e finalmente dare quelle risposte che tanti di voi cercate sinceramente sinceramente questo video uscirà nel momento in cui io potrò provare la glò innanzitutto vorrei sapere da voi se cosa ne pensate di questa comparazione ho già controllato su youtube e ho visto che ci sono veramente tantissimi video di comparazione con la glò hyper plus e sinceramente il nostro prodotto che è la icos una cosa che sicuramente poi andremo ad approfondire è la differenza sostanziale quello che è glò e icos icos innanzitutto abbiamo un'esperienza di fumata che arriva dall'interno dello stick quindi in sostanza si va a riscaldare il tabacco tramite la lamella quindi la lamella va inserita all'interno dello stick e il tabacco si riscalda invece icos a questa sorta di induzione quindi resistenza che va a scaldare la parte esterna del dello stick detto questo possiamo pensare anche un eventuale comparazione con icos il luma sta facendo discutere molto io seguo diversi gruppi facebook seguo diversi canali di youtube e personalmente questa domanda la vedo sempre più spesso il discorso dell'astina che crea in sostanza la caratteristica appunto del magnetismo che va a creare questa questa elettrostimolazione se possiamo chiamarla che poi è il principio dell'induzione se ovviamente se dico cazzate ditemelo qua sotto nei commenti magari c'è qualche più esperto sicuramente di me per quello io sto cercando delle informazioni utili da portarvi sul canale detto questo ragazzi io vi chiedo uno sforzo andate a iscrivervi al canale per voi è un click ci mettete un secondo però per me veramente quel secondo vale tanto vale tanto perché io ci metto il cuore in quel che faccio cerco come vi dicevo prima di avere delle informazioni concrete con carta alla mano in modo tale da essere sicuro di quel che dico non vorrei mai portarvi sul canale un contenuto non dico inventato ma comunque trovato qua e là sulle pagine internet google translate tante volte traduce cose che diciamo la prende un po alla buona la traduzione dell'unica informazione che ho trovato l'ho trovata su un sito russo quindi non conosco la provenienza di queste informazioni non voglio darvele non voglio portarvele quindi ho pensato di acquistare la glo e farvi questo tipo di comparazione fatemi semplicemente sapere cosa ne pensate questa comparazione se la volete ovviamente non uscirà a breve non uscirà subito perché dovrò utilizzare la glo dovrò farlo un utilizzo comunque abbastanza massivo e poi darvi quelle che sono le mie considerazioni finali niente ragazzi detto questo ci vediamo al prossimo video fate l'ultimo sforzo lasciatemi un like condividete il video se vi è piaciuto comunque condividete quelli passati ma vi chiedo uno sforzo fatelo subito ciao ragazzi al prossimo video